Il film che vi consiglia oggi at Korn è La storia del Frank e della Nina, di Paola Randi. La storia ce la racconta Gollum, un narratore che scrive la sua realtà sui muri perché non sa dirla a parole. È il custodio di tante storie, soprattutto quella del Frank e della Nina. Frank è un sognatore che ha smesso di esistere, che aspetta di compiere 18 anni per andare via. La sua realtà è confusa ma potente e convince tutti di ciò che immagina. Nina ha 16 anni, una figlia, un marito e il peso di una realtà che la soffoca. Vuole studiare, prendersi la sua libertà e chiama Frank per aiutarla a prepararsi all'esame di terza media. Tra lezioni e confidenze i due si avvicinano sempre di più, diventando quasi una famiglia. Più si conoscono, più capiscono che la loro storia può essere scritta diversamente e la realtà, come ci ricorda Frank, è solo un punto di vista. La storia del Frank e della Nina è una fiaba urbana, fatta di sogni, coraggio e scelte difficili. I protagonisti ci guidano in un viaggio emozionante, in una Milano inedita, dove i colori il bianco e nero si intrecciano per raccontare un amore fuori dagli schemi. È un film che fa riflettere sui sogni, la libertà e il coraggio di scrivere la propria storia.